Anche la Regione Abruzzo si mobilita contro i paventati rincari sulle autostrade A24 ed A25 che potrebbero scattare dal 1 gennaio del 2022. Il Presidente Marsiglio è chiaro in merito e dà il suo appoggio alla mobilitazione del territorio chiamando in causa direttamente il Governo. Spero che non ci siano e che finalmente finisca questa telenovela. Sono troppi anni che si rinvia l'approvazione del PEF e quindi si cade sempre periodicamente sotto il rischio di un aumento indiscriminato. Quindi è tempo che il Governo decida se questo piano economico finanziario presentato da Strada dei Parchi è un piano accettabile, licenziabile oppure se deve essere respinto. Però penso a questo punto che debba essere inevitabilmente il Governo a mettere la parola fine a questa eterna discussione che crea incertezza sull'economia del nostro territorio e per le tasche delle nostre famiglie. Anche perché c'è poco tempo, ci hanno detto dalla fita CNA, gli autotrasportatori, fine ottobre, poi potrebbe scattare il rincaro addirittura del 26% dal 1 gennaio 2022. Sì, fine ottobre è il termine per definirlo, poi entrerebbe in vigore. Comunque entro la fine dell'anno c'è tempo di assumere le decisioni, però sono ormai anni che questo progetto di PEF e allo studio del Ministero è stato nominato anche un commissario da parte del Tribunale per inerzia del Governo che è stata riscontrata dai Tribunali, che questo commissario decida qual è il PEF. Insomma, ognuno deve fare il suo mestiere. Si è arrivati addirittura alla nomina di un commissario, penso che il commissario sia pagato per sciogliere questo nodo e prendere una decisione. Presente, poi ci si mettono anche i cantieri sull'A14, insomma, come viabilità non è che siamo messi molto bene? Lo sapevamo ed è per questo che stiamo lavorando duramente per incrementare le infrastrutture.